Ciao, voglio parlarti di 5 abitudini da abbandonare. Se abbandonerai queste abitudini riuscirai sicuramente a vivere meglio, a vivere una vita più piena, con meno problemi. La prima abitudine da abbandonare è quella di rimandare. Ci sono persone che continuano a rimandare ciò che potrebbero fare oggi a un domani. E questo rimandare, questo procrastinare aumenta solo di più la situazione negativa. È un po' come uno ha mal di denti ma rimanda sempre la visita col dentista. A un certo punto gli verrà l'ascesso e poi a quel punto lì sarà molto più difficile risolvere il problema. Quindi evitare di rimandare. Un'altra abitudine da abbandonare è quella di essere scollegati dal qui ed ora. Ci sono persone che vivono sempre nel passato ripensando continuamente alle frustrazioni vissute nel passato. Oppure anche a cose belle vissute nel passato ma che in realtà sono passate. Altri che invece si concentrano sulle preoccupazioni per il futuro. E sono situazioni che non si sa se avverranno. Perché comunque il futuro è imprevedibile. Esistono infiniti futuri che possiamo andare a sperimentare. Quindi noi ci concentriamo su uno e quindi probabilmente poi si avverrà magari quello. Però tanto iniziamo a soffrire nel presente. La terza abitudine da abbandonare è quella del controllo. Di cercare di controllare ciò che è fuori controllo. Dobbiamo partire da noi stessi. Noi controlliamo in noi stessi la nostra comunicazione. Vedremo che cambiano gli altri. Ma andare a controllare direttamente l'altro non è possibile. Non è possibile e soltanto ci impedisce di stare bene. Ci impedisce di vivere bene. Un'altra abitudine da abbandonare è quella della lamentela. Smetti di lamentarti. Tanto lamentarsi è l'unica cosa che non serve a niente. E sono come quelle persone che quando la cosa va male non fanno altro che lamentarsi. Ma come se la lamentela fosse una soluzione. Invece la lamentela acuisce solo il problema. Lo amplifica. Lo ingigantisce. E quindi attraverso la lamentela anche una situazione piccola puoi farla diventare grandissima. Quindi evita di lamentarti. E l'ultima abitudine da abbandonare è quella di giudicare sempre gli altri. Di essere giudicanti. Perché anche qua tu giudichi gli altri ma in realtà tu dal più potresti giudicare un comportamento di un'altra persona. Perché manco conosci te stesso o te stesso come fai a giudicare un altro. È soltanto un atto di arroganza. Un atto di invidia. Sono le persone invidiose. Quindi smettere di giudicare gli altri significa automaticamente eliminare molti veleni mentali dentro noi stessi. E sono quei veleni mentali che fanno stare male. Sono quei veleni mentali che fanno soffrire. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao.